Ciao a tutti Cominciamo così questo vlog qua E' il segno della mascherina Comunque adesso vi faccio vedere un po' di spesa Per Halloween Perché questo qui è un vlog di Halloween Che abbiamo fatto Da Aldi per ora Allora, i monti su questi qua Halloween, il telo Questi biscotti qua Questi biscotti qui Queste luci le qua E poi ce n'erano anche un altro di luci E questa Coca Cola qui Non è Coca Cola Diciamo l'originale però Mi piaceva La lattina Perché assomiglia all'originale E niente Sempre zero zucchero Allora Allora volevo un attimo farvi vedere Che ho preso queste cose qua da OBS Sapete Non so se anche da voi hanno i trucchi Ma nel negozio dove vado io C'hanno anche i trucchi Questo è un Gel per le sopracciglia Vediamo se riesco a farvelo vedere Io uso gel per le sopracciglia Io le sopracciglia me le disegno Non sono tatuate Ecco Questo qui è il pennellino Vabbè Dopo lo chiudo Questo è una cosa che va attorno agli occhi Per rendere il colore uniforme Con questo fondotinta qua Perché io uso la terra Terra Insomma chiara A posto del fondotinta E capita Che alla mattina Quando mi trucco Prima di andare a lavorare Mi capita che gli occhi Delle volte Insomma Di non riuscire a spalmarla bene Perché vado di fretta Quindi Ho preso questo fondotinta qui Perché così rimane uniforme E È più facile da spalmare Ma Nel caso che Ho un po' più di tempo E voglio truccarmi un pochettino Meglio Con più cura Uso la terra E questo Correttore Questa matita Vabbè Qua Attorno agli occhi Per rendere il tutto più uniforme Sempre della sciacca questo Pensavo fosse di Essence Vabbè Alla fine solo di Essence È questo E Niente In totale Ho speso 15,57 Mi sembra Non di più Comunque adesso Vado Perché mi voglio Portare In un posto Dove festeggiano Halloween Grazie Cioè non sono neanche le 6 ed è già buio, qua c'è Franky, comunque oggi è il 2 di novembre e Franky vuole andare a fare un giro, più o meno la decima volta che esce oggi. Grazie.